Buongiorno a tutti, allora sto andando a termine a prendere il treno per andare a Milano Sono stanca a morte, vi giuro, dormito pochissimo stanotte, infatti ho cracchiaie fino a terra Nelle ore 7, per lì partendo dal binario 17 Allora questo è il casino che c'è sotto l'hotel di Shonna, c'è lui Ciao, e poi c'è lui, abbiamo scoperto, Sean è messicano Esatto, è messicano, io ci ho detto ho le carte, ho le carte che è messicano Ah le cartine, comunque è arrivata anche lei, poi c'è lui che è ormai proprio modalità barbone Ciao 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 Siamo ancora sotto la pioggia, probabilmente entrando, cioè forse, bravo, non mi copre Guardate che gente che c'è L'ultima fascia prego, l'ultima fascia, l'ultima fascia Ev everlasting detto È show È fazer Di Ciao Laas La La Grazie per la visione 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 Grazie per la visione